Costruisci un bellissimo gattino con due foglie dell'albero PayPal, anche chiamato Body. Le sue foglie sono a forma di cuore. Prendi una foglia e taglia la metà. Puoi farlo anche a mani nude senza l'ausilio di forbici. Queste andranno a formare il corpo del gatto. Ora prendi un'altra foglia. Taglia lungo due vene e rimuovi una piccola sezione in alto. Questo formerà le orecchie del gatto. Rimuovi il gambo in basso per completare la faccia del gatto. Metti insieme la faccia e il corpo per formare un bellissimo gatto. Prendi più foglie e puoi costruire una famiglia di gatti. Oppure un'intera popolazione. Metti insieme la faccia del gatto. Prendi più foglie e puoi costruire una piccola. Impostare un'intera popolazione. Prendi più foglie e puoi costruire una piccola. Prendi più foglie e puoi costruire una piccola.